E dalla Regione passiamo alla nostra provincia, lo facciamo direttamente con il Presidente della provincia di Salerno, Michele Estrianese, nonché Sindaco di San Valentino Torio. Presidente, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Allora, com'è la situazione in provincia di Salerno dai dati che lei ha in possesso? Ma la provincia di Salerno vede oggi circa 350 le persone contagiate che sono distribuite più o meno su tre aree geografiche principalmente. Un centinaio sono più o meno nell'Agronocirino Sarnese, considerando anche un po' il territorio di Cava dei Tirveni. Un centinaio sono nel Vallo di Viano, quindi la zona che comprende un po' i comuni zona rossa, quindi Auletta, Caggiano, Sala Consilina, quelle zone lì. E un altro centinaio di contagiati sono un po' sparsi su tutta la provincia con una concentrazione di 40 unità circa sulla città di Salerno. Quindi diciamo che ci sono alcune zone abbastanza protette, alcune zone del Cilento e abbastanza protette anche la zona dei Picentini, nonché la zona di Cassa di San Giorgio, Siano, Brasigliano, quelle zone un po' più collinari diciamo. Però purtroppo le zone più colpite sono quelle densamente abitate come quelle dell'Agronocirino Sarnese, Cava dei Tirveni e anche Salerno. Senta, lei, prima abbiamo aperto il giornale dicendo che secondo le autorità sanitarie e non solo, anche le istituzioni amministrative, indicano come questa settimana e la prossima quelle che potrebbero essere, come dire, quelle più importanti per l'epidemia. Noi siamo, anche noi come informazione, stiamo lanciando l'appello che bisogna essere prudenti anche perché dopo due o tre settimane le persone iniziano a soffrire un po' di questa chiusura in casa. Qual è l'appello che può sentire, può lanciare il Presidente della provincia? L'appello è sicuramente quello a fare ancora sacrifici perché ci vorrà ancora qualche settimana per vedere alleggerita qualche misura restrittiva. Purtroppo si sta per raggiungere questo benedetto picco della curva dei contagi, ma purtroppo c'è ancora un andamento crescente dei contagi seppur con una velocità minore rispetto a prima. Questo fa pensare che ci vorranno almeno un paio di settimane ancora che vivremo in queste condizioni, per cui l'appello è a fare sacrifici, a continuare a spingere in questa direzione, quindi senza spostarsi, facendo solamente gli spostamenti strettamente necessari, perché altrimenti rischiamo di vanificare il buon lavoro che è stato fatto fino ad adesso. Pensate che in Campania ci sono oggi circa 2 mila contagiati, siamo in una regione da 6 milioni di abitanti. Il risultato è importantissimo, secondo me, è se non ci fossero state determinate prese di posizione da parte del Governatore De Luca, noi non avremmo avuto questi numeri, ma numeri molto, molto peggiori. Pensate che in altre regioni sono ancora possibili, per esempio le consegne a domicilio, sono aperti i parchi pubblici, è possibile fare attività ginnastiche all'aperto, in Campania non è così. Ci sono tutta una serie di misure più restrittive ed è anche grazie a questo che i numeri in Campania sono ancora gestibili, per cui mi appello a tutti i cittadini della provincia a tenere duro, perché uniti ce la faremo, dobbiamo fare ancora qualche settimana di sacrificio e sono sicuro che appena dopo Pasqua, se andiamo in questa direzione, vedremo come cominceranno a ridurre queste drastiche misure di contenimento che abbiamo dovuto rispettare fino ad adesso. Almeno questo è il mio auspicio e l'augurio che faccio a tutti. Senta Sindaco, per concludere, Sindaco Presidente, lei è anche Sindaco di San Valentino Torio, un suo commento a questa decisione del governo di mettere i sindaci come sentinelle del territorio per distribuire dei fondi da destinare alle persone e alle famiglie che hanno veramente necessità di fare la spesa? Sicuramente è una decisione giusta, questo è già un primo segnale di sostegno pratico alle famiglie e ovviamente come diceva anche il Sindaco Torquato prima, insieme a tutti i sindaci dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani stiamo cercando di avere un comportamento univoco, uniforme, stabilire una serie di criteri semplici ma comunque oggettivi per erogare questi contributi spesa. San Valentino Torio per esempio ha avuto 108 mila Euro di contributo per il sostegno alimentare, nei prossimi giorni presenteremo un avviso pubblico per una volta stabiliti i criteri insieme agli altri sindaci a cui tutti quanti potranno ovviamente partecipare e si erogheranno nelle prossime settimane, nei prossimi giorni questi buoni. Ovviamente noi stiamo già lavorando molto da questo punto di vista, anche da me a San Valentino abbiamo già messo in campo già da una quindicina di giorni una rete solidale con un progetto che si chiama Fai la spesa anche per chi non può farla e insieme ai tanti imprenditori, alle aziende, ai cittadini, alle famiglie stanno facendo tante donazioni e stiamo già portando la spesa fino a casa grazie ai volontari di tante famiglie che purtroppo in questo momento sono in difficoltà, per cui stiamo mettendo in campo tutto quello che possiamo, noi comuni viviamo momenti difficili di per sé, con i bilanci, con i problemi di tassa che sono noti a tutti, però riusciamo grazie alla solidarietà dei cittadini a dare risposte un po' a chi in questo momento si trova in difficoltà. C'è un sostegno dello Stato, secondo me è rilevante fino ad adesso questo, anche se dovranno essercene altri, perché per i comuni sono stati erogati anche 65 milioni di Euro per le spese di sanificazione e disinfezione di tutti i territori, altri 10 milioni per incentivare lo Stato ordinario della Polizia Municipale, per fare in modo che i vigili possano fare maggiori controlli nei territori ed ora c'è questa erogazione dei 400 milioni di Euro per un sostegno diretto alle famiglie. Se ci fossero nei prossimi giorni altre iniziative simili, sono sicuro che ce la faremo e sarà una risposta alle esigenze dei cittadini che in questo momento si trovano davvero in difficoltà. Perfetto, grazie Presidente, Presidente della provincia di Salerno. Volevo solo fare i complimenti all'emittente, a Telenuovo, a tutti voi per il servizio che state facendo in questi giorni con questo Tg molto ampliato che va nei comuni per sentire i sindaci e anche le comunità ed è un servizio importante in questo momento laddove le modalità di collegamento tra noi sono solamente i mezzi di comunicazione. Complimenti e grazie per il lavoro che fate per tutta la comunità dell'agro e non solo. Grazie a lei per il lavoro che svolge. Arrivederci, grazie Presidente. Allora, adesso facciamo invece, avremo una schermata tra poco in cui facciamo un po' una sorta di riepilogo dei casi positivi nell'agro nocerino sarnese, giusto per capire anche l'entità che viviamo tutti i giorni. Se la regia è pronta vediamo questa grafica. L'aggiornamento è a ieri sera, quando la protezione civile della regione Campania emette i dati scafati con 19 persone positive a Covid. Pagani sono 12, Sant'Egidio del Monte Albino 13, Sarno 8 insieme a San Marzano con altri 8, Angri 5, San Valentino Torio 4, Nocera inferiore né a 12, Nocera superiore un solo caso positivo. Questa è la situazione a ieri sera alle 22. Andiamo avanti con il giornale. A questo punto andiamo a Scafati per sentire Daniela Faiella che ci darà anche una buona notizia. Infatti altri 4 pazienti ricoverati nel reparto di broncopneumologia sono in via di guarigione, sono stati sottoposti a due tamponi di controllo che si eseguono come da protocollo nell'arco delle 24 ore. Potrebbero quindi essere presto dimessi, come accaduto per l'uomo di 66 anni di Cava de Tirreni che è tornato a casa lo scorso sabato per il servizio di Daniela Faiella.